La danza e le scuole lavorano per il Calcit. Centinaia di ragazzi ancora una volta sosterranno il Comitato Aretino che da anni lotta contro i tumori e sostiene le famiglie dei malati oncologici donando strumenti al San Donato di Arezzo. È l'Arezzo Fiere e Congressi ad ospitare il più grande mercatino indoor del Calcit organizzato quest'anno da 18 scuole. Un appuntamento che l'abbiamo iniziato da 5 anni fa è stato dedicato alle scuole, la partecipazione al mercatino è riservata a tutti i plessi scolastici della provincia di Arezzo dalle elementari alle scuole superiori e lo abbiamo voluto fare con questo obiettivo per ricreare un po' per ripartire dai bambini. Quando siamo partiti nel 1978 essenzialmente erano i bambini che partecipavano anche oggi, però quei bambini del 1978 sono diventati grandi e ovviamente oggi invece vogliamo ripartire dalle scuole e dai bambini per ricreare un certo clima. Il mondo della danza come sempre è parte integrante dell'evento e quest'anno il mercatino in danza ha voluto omaggiare la figura di Otello Bracci ricordato come colui che assieme a Gianfranco Barulli e Franco Palazzini hanno dato il là a questa splendida realtà, in sala anche la moglie e la figlia. Il primo galà a lui intitolato ha visto protagonisti della serata le tante scuole di danza che ogni anno partecipano alla rassegna ma gli ospiti d'onore erano Nicola Leprai e Martina Restuccia, maestri di danza sportiva dell'Associazione Arcobaleno, professionisti che ballano rappresentando l'Italia per la Federazione Italiana Danza Sportiva e Donatella Maggi di 100% Circo che si è esibita nella suggestiva disciplina della danza aerea. Sul palco al termine della serata assieme a Greta Palazzini, anima della manifestazione, è salita anche la figlia di Otello, Giovanna Bracci, per consegnare gli attestati a tutti i partecipanti. Un momento commovente quando lei stessa ha ricordato uno dei primi mercatini realizzati con il padre. L'obiettivo naturalmente è sempre quello di raccogliere fondi per l'Associazione Aretina nel 2016 e ne erano stati raccolti 7.240 solo per il mercatino in danza. Quest'ultimo vedrà il suo culmine con la rassegna giunta alla quinta edizione e di tanti stage che i ragazzi potranno fare con i professionisti aretini. Non solo danza, però nella giornata di domenica tornano anche il volley e l'educazione stradale con la presenza delle forze dell'ordine e ovviamente la possibilità di cenare e pranzare negli stand a cura dell'isola. Il tutto grazie anche alla preziosa collaborazione del gruppo di Via Fiorentina. Insomma, divertimento e solidarietà con il Calcite vanno sempre di pari passo. Grazie! Grazie!